Buongiorno, buon proseguimento di giornata e di domenica a tutti, breve DG, notizie WWE, bene, allora, nella serata di ieri, che era mattinata a primo pomeriggio americano, è stato ufficializzato un nuovo match titolato per il pay per view Money in the Bank del 10 maggio, che però sarà, come Prestelmania, pre-registrato, montato ed editato a norme regola, match a quattro coppie Forgotten Sons, i campioni del New Day, Big E e Coffee Kings, Lucia House, Party e che altro c'è, vediamo, Demise e Morrison e EO, poi i Money in the Bank ladder match, sia quello maschile che quello femminile, saranno svolti in maniera contemporanea, quindi sarà molto interessante vedere come ci faranno vedere nello stesso momento ben due Money in the Bank ladder match, prima di venire in diretto in questo breve DG ho letto che sia Kevin Owens che Jimmy Uso sono alle prese con degli infortuni, forse quello di Jimmy Uso è un po' più grave del previsto, addirittura si pensa di poterlo tornare a rivedere nel 2021, invece per Kevin Owens è probabilmente un paio di mesi e poi possiamo ritornare a vederlo negli show settimanali, però ovviamente per chi ha avvisso Prestelmania, credo perché Kevin Owens sappiamo tutti, con quel volo più che suicida dalla scritta dal logo Prestelmania, era più che logico che si dovesse infortunare, comunque chiudiamo con questo breve DG, dando la super notizione, ovvero che il fenomenale J-Stars a distanza di un mesetto più o meno, dalla sua ultima apparizione in quale di Prestelmania nel bone yard match contro The Undertaker, il becchino, farà ritorno domani lunedì 4 maggio nella puntata di Raw, che però ricordo è stata pre-registrata la settimana scorsa, insieme poi alla puntata dell'altro lunedì ancora, quello di da oggi a lunedì domani l'altro ancora, quindi, infortuni Kevin Owens e Jimmy Ussi, due Money in the Bank ladder match maschile e femminile che si svolgeranno contemporaneamente, e J-Stars che ritornerà a Raw domani, inoltre spero vivamente che annuncino Sonya Deville contro Mandy Rose per Money in the Bank, anche perché hanno fatto passare Odyssey al Money in the Bank ladder match, Sonya ha rovinato tutto, poteva passare anche Mandy, cioè di che ti vai a pensare WWE, non lo so, poi, e niente, quindi staremo a vedere, quindi, se la memoria non mi inganna adesso avremo almeno 6 match ufficializzati per il pay per view, anche se potremmo arrivare almeno a 7 barra 8, e forse la riduzione dei match per questo pay per view è dovuta appunto ai due Money in the Bank ladder match, che io credo dovremmo sorbisci almeno ad andare bene, penso che in 40-45 minuti i due Money in the Bank ladder match potrebbero abbassare, ad andare male male un'ora, un'ora e dieci staremo a vedere, sta di fatto ovviamente che più lunghi saranno questi due match e più ci si potrebbe annoiare, beh, grazie a tutti, alla prossima, buon proseguimento di domenica e ci becchiamo quanto prima, ciao a tutti, ciao!